Il 10 ottobre di un anno fa ad Assisi veniva beatificato Carlo Acutis. Carlo Acutis aveva chiuso gli occhi a questo mondo nel 2006, aveva 15 anni e è Carlo Acutis. E noi torniamo insieme a voi a quel giorno. Concediamo che il venerabile servo di Dio, Carlo Acutis, laico, d'ora in poi sia chiamato Beato. Grazie a tutti. Grazie signora, non sa quanto. Grazie infinite. Allora, ha fatto benissimo insieme a Paolo Rodari, giornalista di Repubblica, che ringraziamo, la signora Acutis a scrivere questo libro, Il segreto di mio figlio. E poi alla fine le chiederemo anche quale sia questo segreto. Ho fatto bene, signora, a mettere in un libro tutta la grandezza, la meraviglia, la forza della fede, lo splendore che è suo figlio Carlo. Io non riesco a parlarne al passato di Carlo. Eh beh, ma Carlo è sicuramente vivo in mezzo a noi, ecco. Solo in un'altra dimensione. E ci tenevo appunto in questo libro a evidenziare alcuni aspetti della sua vita, soprattutto gli ultimi momenti, e mettere anche in luce alcuni scritti che lui ha fatto, che secondo me sono di una grandissima profondità. E cercare di coniugare tutta la vita di Carlo anche con quello che è stato il percorso spirituale, così da poter dare anche, diciamo, delle idee agli altri, da poter essere così d'aiuto, ecco. Signora, Carlo è andato via, Carlo ha chiuso gli occhi a questo mondo in quattro giorni. È stata una leucemia fulminante e ha avuto, mi perdoni se io parlo di questo con lei, ma ha avuto la forza di dirle, di spiegare che cosa stesse accadendo. Cioè, quando si legge e si studia la figura di suo figlio, 15 anni, c'è questa preparazione che lui fa, per voi, per sua madre, a quello che accadrà e a quello che sarà dopo? Sì, diciamo che quando è entrato in ospedale mi disse, mamma io da qui non esco vivo, ricordatelo, però io ti darò tanti segni, ecco. Ed era tipico di Carlo, no? Preoccuparsi sempre degli altri, ma poi diciamo che lui è stato sempre un po' misterioso in questo, perché ha sempre dettosi da bambino che sarebbe morto con una vena che si rompeva sul cervello, infatti è morto di hemorragia cerebrale, ecco. Poi due mesi prima che lui morisse si era autofilmato dicendo quando peso 70 kg sono destinato a morire. E in effetti lui quando è morto pesava, io non l'avevo mai visto questo video, l'ho trovato casualmente nel suo computer, però lui quando è morto pesava 70 kg, però lui quando lo dice lo fa serenamente guardando il cielo, facendo un bel sorriso, anche perché per lui la morte era il passaggio alla vera vita, essendo devoto di San Francesco che chiamava la morte sorella morte, non poteva che vederla come qualcosa di positivo, non qualcosa della fine di tutto. Signora, io lo chiedo a lei con tutto il rispetto, immenso il rispetto che lei ha dovuto, lei che una mamma non si dà spiegazioni del proprio figlio, però una mamma di un figlio così a un certo punto lo guarda anche da un'alta prospettiva, lei come se lo spiega il suo Carlo, così speciale in una vita normale, così il ragazzino, lo vediamo in queste immagini, è normalissimo, è stupendo, è normalissimo, è tutto votato a qualcosa che stava molto più in alto di lui. Certo, no ma il segreto di mio figlio è sicuramente quello che la sua vita ordinaria è diventata straordinaria in quanto, come diceva Giovanni Paolo II, spalancate le porte a Cristo, non abbiate paura. Ecco, lui ha eseguito questo, cioè ha fatto entrare Cristo nella sua vita e la sua vita ordinaria è diventata straordinaria proprio perché c'era questa presenza di Cristo reale, presenza che lui faceva tutto ciò che faceva, lo faceva in Gesù, per Gesù e con Gesù. E quindi questo si percepiva, era un testimone verace, perché ovviamente un conto è dire io credo, un conto è crederlo veramente nel cuore e dimostrare con la propria vita. E applicarlo, e un conto è applicare. Ripeto, in tutto questo 15 anni, quindi continuiamo ad essere basiti di fronte a questa figura della quale in questo libro si racconta la, lo diciamo con la N maiuscola, la normalità e a suggerlare tutto questo, questo documentario, ringraziamo moltissimo, prodotto da Officina della Comunicazione con la regia di Matteo Ceccarelli, proprio Officina della Comunicazione che ci ha permesso di poterlo utilizzare. La mia autostrada per il cielo, sentite questo racconto, è un ragazzo, è un ragazzino, ed è Carlo Cutis, quindi è, seriamente parlando, immenso. Il primo ricordo che ho di Carlo è quando stavamo al mare, diciamo che io andavo a trovarlo l'estate, eravamo piccoli, stavo all'elementare, quindi anche lui, due anni più grandi di me, avevamo più o meno la stessa età, e andavamo a giocare insieme alle saline, perciò prendevamo le pinne, comunque la maschera, gli occhialetti, andavamo giù in spiaggia con mia nonna e sua nonna, che sono sorelle, e andavamo comunque a fare il bagno, a vedere i pesci, così giocavamo con i cani. Carlo è stato un mio compagno delle medie, siamo subito trovati molto bene, erano due caratteri abbastanza affini, è stato un grande amico, noi ci trovavamo con un altro gruppo di tre, quattro ragazzi, il venerdì pomeriggio, ci incontrano sempre a casa sua, che è qua dietro, dietro la scuola, e così abbiamo fatto, anche quando poi siamo diventati più grandi, abbiamo continuato al liceo. Era un ragazzo come tanti altri, è la prima impressione che ho avuto, giocava, andava facendo sport, guardava i cartoni animati, era amante degli animali, gli piacevano le gite, gli piaceva uscire con gli amici. Allora, Carlo e la fede, io signora ho sorriso la prima volta che ho sentito il nome della sua tata polacca, che si chiamava Beata, e sorriso con un tuffo al cuore nel pensare che questa donna abbia sicuramente contribuito a questo scoppio di fede che Carlo dimostra fin da piccolo, non perché voi foste lontani dalla chiesa, però il vostro figlio vi ha detto, io a sette anni voglio fare la comunione. Sì, sì, no, Beata è stata sicuramente, ha avuto un ruolo importante, anche se diciamo l'ha curato fino ai cinque anni, ma Carlo era proprio qualcosa di spontaneo, ecco, è un mistero questo, perché era un bambino sempre anticipatario, io dico sempre che Carlo correva avanti il tempo, però questo fatto della fede è stato qualcosa di... che lui è nato così, perché, guardi, aveva tre anni e mezzo, voleva entrare nelle chiese, buttava i baci a Gesù, il crocifisso, la madonnina, ecco, e questo è un crescendo che poi ovviamente, come dicevo, essendo sempre molto più maturo rispetto all'età che aveva, la comunione l'ha percepita subito come l'incontro con la presenza viva e reale di Cristo, e quindi lui proprio bramava questo e per delle coincidenze fortunate abbiamo trovato un parroco che gli fece fare la comunione a sette anni e lui da allora tutti i giorni andava a messa, tutti i giorni faceva l'adorazione eucaristica e sempre questo incontro poi coronato con il rosario che lui diceva che la Madonna era l'unica donna della sua vita perché, insomma, faceva questi discorsi. Signora Antonia, però lei di fronte a questo che faceva? Ma io ero contenta perché poi vedevo che cresceva la sua vita spirituale ma anche la sua vita, la sua generosità, ecco, sendo sempre un bambino generosissimo che pensava al prossimo, si preoccupava degli altri, a cominciare poi, man mano che cresceva, ecco, aveva creato una piccola carità domestica, aiutava per esempio, non so, i crociar per strada, portava dei saccappelli, comprava delle coperte, portava delle bevande da mangiare, ma poi aiutava quelli che avevano difficoltà a integrarsi nella sua classe, nella scuola, aveva sempre un'attenzione per i più piccoli, per gli anziani, ha fatto poi con le sue doti informatiche straordinarie, il sito del volontariato dei gesuiti, il sito della parrocchia, il sito per esempio della Pontificia Accademia Cultorum Martirum, di cui io sono curator, l'ha fatta lui con tutto il martirologio, cioè ha fatto tante cose per la Chiesa, il catechista, insomma, però questo sempre perché tutta la sua vita ovviamente voleva proprio comunicare, che cosa? La bellezza della fede, Cristo, e quindi in tutta la sua vita si vede come questo filo conduttore si lega tutto. Carlo era legatissimo alla sua famiglia, al nonno, a chi non c'era più, aveva questa grazia innata che era anche fede, ed è nel racconto che lei ne fa, si vede questa figura che è centrale, è centrale, lo ribadiamo ancora una volta, però leggetelo questo libro per favore, nella sua totale, assoluta quotidianità di ragazzino, perché ecco, questo colpisce di Carlo. Io lo sottolineo ancora, signora, sono stressante, me ne rendo conto, ma lo vediamo qua, abbracciato ai suoi cani, alle cose che lui amava, alla bellezza che lui amava. Certo, ma i santi io credo che siano tutti normalissimi. A volte ci sono delle persone che magari lavorano in cucina, che sono state beatificate, o facevano lavori semplicissimi, ecco, cioè ci si accorge e non ci si accorge, no? Certamente devo dire che di Carlo ci eravamo accorti che c'era qualcosa di speciale, perché questa generosità, questa purezza, questa fede, ma poi soprattutto un ragazzo molto obbediente, non l'ho mai sentito parlare mai di nessuno, mai di disubbedire, ecco, sicuramente era speciale. Poi, sa, uno non pensa, dice adesso muore e poi lo beatificano, no? E io, diciamo, ero convinta che avrebbe fatto qualcosa, probabilmente avrebbe abbracciato la vita religiosa. Però la santità è sicuramente qualcosa di molto semplice, no? Perché Dio è semplicissimo, più ci complichiamo e più ci allontaniamo da Dio. E certamente anche i santi sono semplici, quindi la loro vita è... Perché la santità parla in tutti gli ambiti, dal pelare le patate al fare le grandi imprese di evangelizzazione. Grazie. Quello che sta dicendo è fragorosamente vero, fragorosamente vero. E in fondo la grande lezione di suo figlio Carlo è ma perché tu oggi non hai ancora fatto qualcosa di speciale e qualcosa di buono? Perché questo provi quando leggi la vita di Carla Cutis, non devi pensare di dover imbastire chissà che cosa, ma tu oggi hai fatto qualcosa di buono, di semplicemente buono. Ecco, questo era un figlio d'oro che, io dico signora, che le regala e vi regala quei due gemelli che sono arrivati dopo. Mi piace pensare che sia così. Sì, sì, è vero perché poi la data prevista del parto era proprio il giorno della morte di Carlo. Poi mi hanno anticipato la nascita perché i coi gemelli fanno così. Ma questo è sicuramente la firma di Carlo. Poi ho visto fare grazie, miracoli, tante grazie, tanti miracoli a tante persone in tutto il mondo perché Carlo ha una fama mondiale, non è solo, diciamo, italiana. Ma certo, come dicevamo prima, Carlo tutto ciò che faceva lo faceva con amore. Ecco, come diceva Santa Teresina di Lisie, che aveva compreso il segreto, no? Il segreto è fare le cose con amore. Questo. Qualsiasi cosa. Questo, fare qualsiasi cosa, farla con amore. Quando lei ha saputo di diventare mamma di nuovo, che... Ma sono stata contenta perché, sa, a 44 anni diventare mamma è un po' difficile. È stato veramente un miracolo di Carlo. E questo mi ha sicuramente, io dico sempre, faci i regali a tutti, ti sei ricordato anche di tuo padre. Scusi. Bellissimo. Allora, la beatificazione. Noi continuiamo a vedere queste immagini e c'è quell'istante in cui il telo che sta sull'immagine del beato scende ed emerge il volto. In quel momento uno, uno che poi è lei, dice, ma quello è mio figlio. Ecco, che bomba scoppia nel cuore in quell'istante? Ma sì, c'è sicuramente una grande emozione, ma più che altro perché Carlo fa del bene, ecco, aiuta tante persone. Questo è fondamentale per me, perché per me i santi devono portare a Gesù. Ecco, questo è lo scopo dei santi. Sono esempi. Ma io sono sicura che in paradiso ci saranno tanti di quei santi sconosciuti che neanche lo immaginiamo. Ma vedere certamente questo telo scendere giù è stata una grande emozione. Poi abbiamo portato questo cuore di Carlo che era intatto nel reliquiario, che era un po', per certo il cuore, proprio il cuore, no? Perché Carlo ha messo il cuore, amava la Chiesa, metteva Cristo al centro della sua vita e quindi il fatto del cuore per me è veramente significativo. Cioè il cuore non si era nel corpo che naturalmente si, come dire, fa il suo, no? Sì, diciamo che il cuore non era stato intaccato. No, no, diciamo che il corpo è stato trovato intero, intatto. Adesso io non so, poi chiaramente, perché poi alcuni dicono, insomma, erroneamente si diceva anticamente incorrotto, ma di incorrotto penso ci fosse solo Gesù la Madonna. Però, diciamo, il fatto di averlo trovato intero per me è stato sicuramente particolare, perché poi l'hanno vestito, gli hanno messo le scarpe, aveva i capelli, insomma. E gli organi interni pure sono stati trovati, diciamo, intatti e anche il cuore. Quindi questo a me ha fatto piacere più che altro per i devoti, perché poi quelle sono cose che possono capitare, ma non è quello la santità di una persona. Però sicuramente è significativo che proprio il cuore anche fosse completamente intatto ed è un bel segno, insomma. Lei è una bellissima mamma, lo sa? Lo so che lo sa. La ringrazio, ma con qualche chilo di vino, forse. Ma, vabbè. E poi lo dice, Carlo, tutta la sua simpatia e il suo modo di essere, il suo modo di fare. E da qualcuno l'avrà pure ereditato, perché per evidenti motivi. Signora cara, io non posso fare un salto e andare ad abbracciarla, però, insomma, stini che ci siamo appena abbracciate. Sì, assolutamente. Essere di esempio per tantissimi. Addirittura per gente che arriva dall'Australia, per Carlo Acutis. Carlo si trova ad Assisi, chiesa di Santa Maria Maggiore, santuario della spogliazione, dove Francesco si spoglia di tutto. E lui è lì, Carlo Acutis. Daniele Morini era lì il 12 ottobre scorso, che è il giorno della memoria liturgica di Carlo Acutis. Ha raccolto le voci dei fedeli, del vescovo Monsignor Domenico Sorrentino e del rettore del santuario. Ascoltateli bene. Ascoltate queste mamme che portano i loro bambini da Carlo Acutis. Perché? Perché sì. Perché lui è Carlo Acutis. Guardate. In questo primo anno della beatificazione di Carlo, stiamo vedendo davvero quanto questo ragazzo sta toccando il cuore di tutti. Io oso dire di tutto il mondo. Anche prima della pandemia sono arrivati anche pellegrini dall'Australia, che sono più rari di vedere ad Assisi. Ma sono venuti proprio anche per Carlo. Era un ragazzo normale, a vederlo in quello che faceva tra scuola, famiglia, interessi sportivi, computer. Un ragazzo normalissimo, ma sempre sorridente, con un volto solare. Il segreto di questo sorriso e di questa solarità era la sua fede. Aveva capito che la vita ha senso, se diventa un cammino di santità fatto in compagnia di Gesù. Sono nati in Italia, ma ripeto, in tutto il mondo, tantissimi gruppi di preghiere, che hanno Carlo Acutis come patrono, come ispiratore, tante associazioni, anche tanti oratori, ispirando anche i ragazzi della prima comunione, della cresima, come vivere il rapporto con Gesù, con i sacramenti, con Maria e anche la solidarietà con i poveri. Per me è stata una grande svolta nella mia vita perché mi ha fatto prendere la consapevolezza che la santità è possibile. Siamo qui con i miei bimbi per loro più che altro perché è bello che i miei figli sappiano che ci sono così figure così belle. È un richiamo che il cuore detta e guida, quindi poter venire qua, salutarlo e partecipare alla ricorrenza dell'anno e dell'anniversario è comunque una gioia, è un affidarsi anche alle sue opere che speriamo possano continuare in cielo. Carlo è sepolto nel luogo dove Francesco si è spogliato di tutto e i due, Carlo e Francesco, stanno facendo un lavoro grandissimo dal cielo, stanno veramente attraendo tante persone perché siano portate come loro sulla strada di Gesù Cristo, additano insieme Gesù e dunque noi siamo davvero convinti che da questo luogo di grazia possa venire alla Chiesa e al mondo un grande flusso di benedizione. Per il futuro ci aspettiamo che Carlo continui questo suo lavoro dal cielo di toccare il cuore, di riportare a Dio e al senso bello e profondo della vita e ovviamente ci aspettiamo anche la sua canonizzazione. Sicuramente con la canonizzazione crescerà ancora di più tutto questo movimento spirituale, umano, bello, giovanile, familiare che è già in moto grazie alla sua intercessione e al suo bellissimo esempio. E dunque, già Assisi è l'ombelico del mondo, no? E poi adesso abbiamo un motivo in più per andarci. Il miracolo ufficiale che ha permesso la beatificazione di Carlo, qual è? È un bambino brasiliano che è nato con un pancaras deformato sin dalla nascita, che era biforcuto proprio. Questo bambino aveva terribili dolori, problemi a mangiare, cose solide, sempre cose liquide, spesso vomitava. Non c'erano molte speranze. Però c'era questo sacerdote, padre Marcello Tenorio, che è molto devoto di Carlo, a cui avevo regalato un pezzettino di stoffa che avevo poggiato su una camicia sporca di sangue di Carlo. Quindi si figuri proprio una cosa simbolica. E lui con questo pezzetto ha benedetto il ragazzo, poi hanno fatto una novena pubblica in chiesa con i suoi fedeli per la guarigione invocando Carlo di questo bambino. Al terzo giorno il bambino tornando a casa ha detto che voleva mangiare, ha mangiato dei solidi e non si è sentito male per la prima volta. Insomma, tutti strabiliati. Hanno fatto poi l'attack al Pancras, che era completamente riformato. Cioè, come se non avesse mai avuto niente. Un Pancras normale. Ovviamente questo è un miracolo straordinario, perché riguarda la trasformazione istantanea di un organo e la congregazione delle cause dei Santi aveva vari miracoli da scegliere. Hanno voluto scegliere questo, perché poi anche in Brasile, voi sapete che il Brasile è il paese con il più alto numero di giovani del mondo. E quindi secondo me è un po' significativo anche questo fatto del Brasile. E poi non dimentichiamo che Carlo, il giorno liturgico è il 12 di ottobre, che è proprio il giorno della Madonna Apparecida, che si festeggia in Brasile. Signora, lei quante volte al giorno gli parla? Ah, ma guardi, Carlo lo sentiamo presente, vicino. Sicuramente sentiamo tante intuizioni che ci dà, ecco. E non lo sentiamo assolutamente assente, ecco. Ci parla attraverso i fedeli, ci parla attraverso le grazie che fa, le mail continue che riceviamo, le richieste di incontri. Quindi ci parla in tanti modi, anche le testimonianze di parroci, di fedeli, di tante persone. Le posso chiedere un'ultima cosa? I fratelli di Carlo, che Carlo per tutta la loro splendida e lunghissima vita lo sentiranno sempre nominare. Sì. Che cosa dicono di un fratellone così? Sono contenti, lo vivono come uno di famiglia, quindi per loro è naturale Carlo, no? Dormono nella stanza di Carlo quando sono a Milano e quindi per loro Carlo fa parte della famiglia. Però devo dire che l'anno di Carlo si vede perché sono bambini, adesso hanno un dici anni, hanno fatto la prima comunione presto, anche loro, vanno a messa tutti i giorni, sono bambini molto devoti, il rosario per loro è un appuntamento fisso, anzi litigano a chi lo recita, perché i gemelli sono sempre un po' litigiosi. Competitivi. Ecco. Però devo dire che lo vivono con naturalezza, anche se poi hanno anche altri santi, perché poi loro hanno le loro preferenze, la bambina per esempio Santa Gemma, Santa Teresina, il maschietto San Giovanni Bosco, quindi ognuno ha i suoi… E Carlo è naturalmente il fratello. Carlo è il fratello. Per noi è Carlo Acutis Beato, per loro è, anche qui torniamo, semplicemente il fratello, perché la semplicità che rende grande il cielo è quello che ha reso grandissimo Carlo Acutis. Io vi prego di leggerlo questo libro, lo faccio nuovamente vedere, edito da PM Il Segreto di Mio Figlio, scritto con Paolo Rodari, grande giornalista di Repubblica, da una mamma strepitosa, la signora Antonia Salzano Acutis. È stato un onore avere qui con noi. Vediamo domani, 12.20, l'ora solare è questa. Grazie a tutti. Grazie signora. Grazie, 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 grazie.